Dal mondo della musica arriva una bella notizia in questo periodo di emergenza e difficoltà. Viola Pasquini, primo violino dell'orchestra giovanile di Arezzo, ha infatti vinto ben due audizioni internazionali di grande prestigio, quella per la Junior Orchestra del Festival di Verbier in Svizzera e quella del concert Gibbo Orchestra Young di Amsterdam, indetta dalla celebre orchestra olandese. In ambe due le selezioni, Viola ha superato la concorrenza di migliaia di candidati da tutto il mondo ed è una dei pochissimi italiani ammessi ai due programmi che consentono la partecipazione a stage di alto livello con direttori e solisti di fama internazionale. Viola ha 15 anni e frequenta la classe seconda del liceo classico Pedrarca di Arezzo. Una grande passione, la sua, che nasce da quando aveva appena 5 anni studiando con la didatta e concertista Marta Lazzeri. Fin dall'età di 9 anni ha suonato nella sezione dei violini dell'orchestra giovanile di Arezzo con artisti di alto livello quali il pianista Bruno Canino, il violinista Marco Fornaciari e il direttore flautista Giampaolo Pretto e dal 2019 è primo violino dell'orchestra. Ha conseguito la certificazione di studi di primo livello presso l'istituto pareggiato Rinaldo Franci di Siena. Con il massimo dei voti è assolato per Milano Expo 2015 presso il Museo Brera e per la stagione musicale internazionale del Museo Ivan Bruschi di Arezzo, eseguendo tra l'altro l'integrale dei concerti brande burghesi di Bach all'età di 14 anni. Ha vinto tre premi in concorsi nazionali al Federico Marini di Falconara Marittima, al concorso nazionale di Piove di Sacco e al concorso nazionale di Vimodrone.